Musica Fino alla notte di San Silvestro e alla mattinata del nuovo anno, il tempo rimarrà bello e stabile ovunque, con tantissimo sole al centro-sud e sui monti. E, nonostante le basse temperature notturne, il clima sarà quasi primaverile, con punte di 15 gradi al centro-sud e sulla capitale. Il 2013 si aprirà però all'insegna di Eva, la prima perturbazione dell'anno, che porterà fra il 1 e il 2 gennaio nuove piogge nevicate. Sono le previsioni del portale inmeteo.it. Nonostante il bel tempo, al nord Italia sarà in agguato l'insidia della nebbia, che si ripresenterà affitta lungo il fiume Po, sul Veneto e sulla pianura emiliana, riducendo pericolosamente la visibilità. La notte di San Silvestro sarà fredda e nebbiosa sulla Val Padana, serena su tutte le altre regioni. Poi il colpo di scena con Eva, un forte impulso nord-atlantico, con nuove piogge nevicate, che al nord potranno verificarsi anche in pianura, sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Piacentino e sui rilievi liguri, nonché su tutte le Alpi e prealpi.